GF VIP, Oriana fa una scenata dopo il reality, mi devi chiedere perdono. Cosa succede tra Oriana e Daniele dopo la fine del grande fratello VIP? Da pochi giorni si sono spenti i riflettori sul reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini e... Tra le coppie che stanno tenendo banco fuori dal contesto televisivo, vi sono i due giovani protagonisti di questa settima edizione. L'ex tronista di Uomini e Donne, una volta ritrovata la sua Oriana, ha scelto di iniziare un percorso con lei e provare così a conoscersi meglio fuori dal contesto TV. In queste ore Oriana si è lasciata andare anche alla prima scenata di gelosia nei confronti di Daniele. Nel dettaglio, tra le coppie che si sono formate in questa settima edizione del grande fratello VIP, vi è quella composta da Daniele e Oriana. I due stanno tenendo banco sui social con le novità legate alla loro storia d'amore che ha appassionato gli spettatori e appassionati delle reality show Mediaset. In queste ore, Oriana si è lasciata andare anche ad una scenata di gelosia nei confronti dell'ex tronista. Dopo aver visto degli scatti che non le sono piaciuti. Uscita dalla casa del GF VIP, Oriana ha avuto modo di recuperare un po' di filmati. Tra cui quelli di Daniele Dal Moro che si mostrava in dolce compagnia di Nicole Murgia. Quando entrambi erano concorrenti delle reality show. Come ti sei permesso di farla mettere sulle tue gambe? Ho capito che ti piaceva. Però, mi devi chiedere ancora perdono. Chiedimi scusa, ha sbottato Oriana. Va bene, perdonami, ha subito esclamato Daniele che ha così messo a tacere le polemiche e le critiche da parte della ragazza. Successivamente anche Nicole Murgia è intervenuta sui social e ha ammesso di non aver intenzione di voler fare polemiche con Oriana. Dato che tiene moltissimo a lei e alla loro amicizia nata al GF VIP. Intanto prosegue a gonfie vele anche la storia d'amore tra Edoardo e Antonella. L'altra coppia che si è formata quest'anno all'interno della casa del grande fratello VIP. Anche in questo caso, tutti sta procedendo nel migliore dei modi e i due si stanno vivendo al riparo dagli occhi indiscreti dei riflettori mediatici. Pur continuando ad aggiornare sempre i fan sulle volversi della loro relazione che per diversi mesi ha tenuto banco all'interno delle reality show condotto da Alfonso Signorini. Grazie a tutti!